Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono DocD e oggi siamo qui per parlare del bug che è successo ieri sera che ha sfasato e ha distrutto tutto il gioco praticamente, compreso il mercato sono qui appunto per spiegare a chi non ha avuto l'opportunità dalle 21 alle 22 di entrare in FIFA e scoprire che cosa era successo bene, per queste cose ragazzoli vi invito a essere, a entrare nel link in descrizione, per entrare nel gruppo Telegram e tutte queste cose perché così rimanete sempre aggiornati su tutto e non vi perdete questi piccoli bug molto interessanti quello che potete notare appunto adesso io ho un miliardo 300 milioni e appunto avevo anche investito altri 700 milioni in due giocatori che però adesso il mercato è chiuso quindi niente, comunque prima di cominciare ragazzoli un bel like, iscrizione eccetera 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 link in descrizione per entrare nei vari gruppi così siete sempre aggiornati e cominciamo parliamo un po' del bug di ieri sera, allora, a sorpresa un po' di tutti ieri sera è stato rilasciato all'evento dell'Utoz cosa che nessuno se lo aspettava nel bene o nel male perché doveva essere giovedì non si sa bene il motivo, è scoppiato un po' tutto, cioè c'è stato un bug delle cose, c'è stato un bug potente esattamente, anzi più nello specifico il bug era in questo pacchetto, no? che da come si può notare, se si scorre, no vedete, può dare da 225 milioni a 900 milioni, ok? e gli Utoz, il bug era che questi premi non avevano una percentuale, quindi tutti quanti prendevano i soldi grossi e i giocatori Utoz, io avevo appunto 80 punti, ho preso 4 Utoz e ho fatto 2 miliardi, ok? molte altre persone hanno fatto appunto le stesse cifre, c'è chi ha preso più giocatori ha fatto meno soldi chi ha fatto più soldi ha preso meno giocatori, per esempio, eccetera eccetera però nel bene o nel male tutti quanti hanno fatto veramente gli spacieli che cosa succederà adesso? allora, è un po' difficile, per quelli che non hanno usufruito del bug e non so cosa potrà, cioè non so se avrete dei premi indietro e tutte queste cose per chi invece ha usufruito del bug, da quel che sta rilasciando un po' la flaie ci potrebbero essere dei provvedimenti molto molto bruttini cioè togliere i giocatori Utoz e azzerare i crediti in un account, successo a, anzi in realtà a 2 o 3 account che ho già sentito io nei vari gruppi Telegram di FIFA, anche inglesi è successo che appunto gli hanno, cioè per esempio io sono 1 miliardo e 300 milioni, ok? è successo che gli hanno tolto tutti i crediti, ma gli hanno tolto anche il doppio dei crediti cioè nel senso io ho 1 miliardo e 367 milioni, perfetto allora se succede quello che hanno detto, appunto arriverò ad avere meno 1 miliardo e 400 milioni in quel caso tutti quelli che hanno usufruito del bug se la prendono nel culo ma oltre che ne prendersela in quel posto, scusate se ho usato quel termine però era proprio per enfatizzare il termine diciamo, ok? e se succede questo, cioè appunto anche io stesso, cioè per recuperare un milione e mezzo di credito c'è un miliardo e mezzo di crediti e farei un po' di fatica, cioè nel senso, no? anche perché in realtà di miei crediti c'erano 300 milioni oltretutto quindi cioè quelli dovrebbero rimanermi almeno però vabbè, quelli sono cose che in realtà non dovrebbero succedere dovrebbero fare altre cose che però al momento non sanno al momento hanno deciso di fare questa cosa qua chiudere il mercato, in realtà ieri sera avevano reso tutti i giocatori non scambiabili ok? così da chiudere il mercato e chiudere proprio le fonti di mercato si potevano vendere solo le icone o i giocatori di eventi passati appunto adesso è ancora tutto bloccato addirittura la mia squadra per intero adesso vale zero come molte, anzi tutte le vostre in realtà e... problema appunto io sono entrato 138 nel frattempo quasi 139 perché giustamente ho messo Eder Militao, Fofana, Griezmann e Benzema tutti e quattro sculati ieri sera appunto grazie al bug e i vari soldi e però non so se mi restano, non so se i soldi mi restano come tutti quelli che hanno sotto del bug non si sa che cosa succederà ragazzoli dovrebbero aggiustare tutto quanto entro giovedì quindi entro giovedì sera alle 21 dovremmo sapere che cosa succede nello specifico, cosa succederà perché così è una situazione un po' del cazzo cioè adesso il gioco in realtà è bloccato cioè si possono giocare sotto le eventi e fare le rivals però è un po' bloccato cioè nel senso il mercato è completamente bloccato quindi è un problema spero che si risolva presto però purtroppo non ho altre notizioni incredibili da dirvi appunto ci sono soltanto queste cose qua al momento per rimanere aggiornati basta seguire la pagina di esports fifa mobile appunto su twitter o su instagram ma al momento c'è poco da fare cioè stanno cercando di capire che provvedimenti prendere ragazzoli quindi stiamo un pochettino così sul bordo sul filo del rasoio quelli che hanno usato il bug magari quelli che non l'hanno usato avranno un contentino magari appunto gli fanno uscire un utoz così randomico e gli danno magari 300 milioni sarebbe giusto appunto se non tolgono le cose a noi che abbiamo usato il bug se invece le tolgono non daranno niente a nessuno e magari ci ridanno i nostri credit tolgono i giocatori però sarebbe veramente un macello e quindi vedremo ragazzoli appena avrò notizie più concrete eccetera eccetera ve le mostrerò appunto per adesso purtroppo sono solo quello noi ci troviamo domani spero con nuove notizie più positive che negative perché appunto all'inizio di Grissera erano tutti davanti in foga con questo bug adesso la gente comincia a strizzarsi compreso me perché appunto se mi fate andare giù i crediti sotto il miliardo è un casino per recuperarli appunto dovrò giocare due eventi solo per recuperare i crediti e senza ruppare la squadra e automaticamente è un problema ok ragazzoli detto questo noi ci troviamo domani con un nuovo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi e appena so qualcosa ve lo faccio sapere ragazzoli assolutamente a presto ciao 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 ciao